buongiorno buongiorno un cazzo ma questa che è? fa un cazzo meglio oh buongiorno un cazzo si trattiene un pochino si sta sul chi va si sta un po' si si fa l'attore principe di savoia adesso ve lo metto il video si la fa anche il cantante assaggia 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 dai la è gillemon la dai dillo un po' ma è bello assaggia sente com'è sente l'ha fatto Mauro sente sentelo te l'ha fatto Mauro un secondo assaggia assaggia ma non la vuoi dai no assaggino che ne sei assaggino che ne sei assaggino che ne sei costumino cappellino filiberto marinaio incredibile gondoliero a venezia eh si com'è gondoliero a venezia si si è veneziano non si sente l'accento sei veneziano son veneziano o mi? mi son teodoro e trombo come l'oro come in toro son filiberto son filiberto capiccunny abbiamo un nuotatore vai 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 roky davanti bravo corri le cepprissi è partita e vai in lontananza si sta per buttare anzi si è buttato il muflone umbro eccolo ragazzi guardatelo come va nelle acque buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo no vabbè sta pieno seggiatina con filiberto lungo mare al top sta pieno 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 di top oh vedi che ti senti Nicoletta mamma mia eccolo sei già posizionato incredibile ti sei posizionato per fare che? che? ti sei posizionato per fare che? per mangiare e dopo che fai? e dopo intanto mangio e poi vedi un po' cosa fai? e dopo mi devi sto un po' e poi voglio arrivare a casa e dopo arrivare a casa e dopo e dopo voglio fare anche uno il palamuse del pesce si aspetta il pesce si aspetta il pesce no da me 50 grammi di frittura e poi cazzo mio e non mi rompio i coglioni che i coglioni mi sono diventati come tu morto a te hai capito? e ho fame il muflone umbro eccolo eh eccolo il muflone ecco guarda guarda il muflone quanto mangia il muflone umbro? un po' un po' sonne finizione com'è? andiamo a pelo perché sta pieno il divano ufficiale lo trovate solo qua solo qui eh andiamo a pelo perché sta pieno del top corre corre quanti spaghetti ha mangiato? 4 primi ha mangiato 4 primi è il quarto primo? no è il quarto primo io mangio il coso e basta il secondo e il terzo è splatto no io no adesso ancora mangi? ancora mangia? siamo tornati eh lui sta scazzando stanchi morti stanchi morti sono pure il naso questo man felici vero? io non mi è stato sei stata contenta? stanchi ti è piaciuto? tante cose tante esperienze alla nostra età bello 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 io sto cotto non ho manco più la voce eh ma c'ho più ma c'ho più la voce sì devo fare il cantante ebbene faglio che mi dè? ti ho fatto un pardo con io no 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 e qui metto io la faccio ma lui dice c'era una bottiglia da Davide e Pietro grazie per farci ridere ogni giorno i vostri coccodrilli nonno Faustino non berla tutta stai tranquillo che non la bevo tutta saluta la vita ciao